Poca gente, porte e finestre chiuse oggi ne buona parte di Via della Libertà a Paternò, la strada dove insiste la palazzina di Due Piani, dove ieri sono stati trovati, privi di vita, il procuratore finanziario Gianfranco Fallica, la moglie Cinzia Palumbo e i loro figli Angelo Daniele, di 6 anni, e Francesco Gabriele, di 4. Sul portone d'ingresso qualcuno ha lasciato un emazzo di fiori bianchi e uno degli elementi distintivi della scena del crimine, che è stata sequestrata, mentre proseguono le indagini della procura e dei carabinieri di Catania. Resta ancora in piedi la prima ipotesi, quella dell'omicidio-suicidio. Fondamentale è il racconto del nonno materno. È stato lui a fare la scoperta. Preoccupato per la mancanza di comunicazioni, entra in casa. Per aprire la porta, chiusa, doppia mandata dall'interno, utilizza una coppia delle chiavi che ha da tempo. Sale sopra e nella camera da letto scopre i quattro cadaveri. Il procuratore finanziario era riverso tra il letto e il pavimento. Madre e figli erano nel letto, in pigiama, uno accanto all'altro. Secondo la ricostruzione ritenuta attendibile da procura e carabinieri di Catania, il promotore finanziario potrebbe aver utilizzato la pistola calibro 22 regolarmente detenuta per uccidere i familiari, poi si sarebbe tolto la vita. Nessun biglietto per motivare il gesto, quindi al momento non c'è un movente certo. Si scava nel vissuto dell'uomo e in casa, intanto, sarebbero stati sequestrati dei farmaci per curare la depressione, anche se non è noto chi seguisse la cura.